Continuano ad aumentare le visualizzazioni del video sul cibo nisseno pubblicato da Marco Giarratana in Arte Uomo Senza Tonno sul suo canale su YouTube. Rimbalzano infatti le condivisioni sui social, suscitando un senso di orgoglio in chi vive la città quotidianamente e di nostalgia invece in chi si è trasferito altrove ma rimane comunque legato alle tradizioni culinarie della propria terra. Attraverso le panature, fritture, schiacciate, pizze, focacce e panini, ma anche dolci, assaggio dopo assaggio e con qualche digressione sulle bellezze monumentali della città, Marco Giarratana racconta la gastronomia nissena facendo anche una tappa a San Cataldo. Le riprese mi hanno portato via circa tre settimane più altre tre settimane e mezzo per il montaggio e tutto l'editing quindi c'è stato tanto lavoro e se non avesse avuto una forte voglia di realizzarlo sicuramente non sarei riuscito. L'ho fatto perché reputo sia ingiusto il modo in cui noi cittadini di Caltanissetta maltrattiamo la nostra città. È vero, non c'è tantissimo. Non siamo una metaturistica, però ci sono tanti luoghi. Ho girato tanto grazie al mio lavoro sui social. Ho girato in tante regioni e ho conosciuto tanti piccoli posti che hanno valorizzato quel poco che avevano facendo delle sagre e delle manifestazioni. Spero che oltre alla condivisione sui social, di cui sono molto contento, questo video possa dare la spinta o faccia riflettere a qualcuno e accendo una piccola miccia per portare le persone a Caltanissetta a mangiare quello che c'è di buono e a visitare quei luoghi artistici o turistici che abbiamo. Ricorda dunque le proprie origini, Marco Giarratana, trasferitosi a Milano da più di due lustri. È stato capace di reinventarsi, così come racconta anche nel suo romanzo di quattro anni fa. Dopo aver perso il lavoro, infatti, ha trasformato il talento in cucina in un vero e proprio mestiere d'autodidatta, una scelta che si è evoluta tra conferenze, show cooking, videoricette e anche volontariato. Aveva iniziato l'avventura di cuoco a domicilio, realizzando anche un tour in giro per l'Italia, cucinando in cambio di ospitalità, esperienza accantonata però a causa della situazione sanitaria. Il mondo del web adesso torna ad essere al centro del proprio lavoro, anche se ha sempre fatto parte della realtà di Uomo Senza Tonno attraverso il blog, i social, le collaborazioni con varie testate online, legate quest'ultima anche ad un'altra passione, quella per la musica, che lo ha portato non soltanto a scrivere recensioni, ma anche a partecipare attivamente a dei progetti musicali. Quando ho perso casa e lavoro nel giro di cinque giorni, qua a Milano, è successo nel 2015, io facevo il copywriter in un'azienda di e-commerce, ho cominciato un po' a investire sulle pagine social, sia Facebook che Instagram, di Uomo Senza Tonno, e poi una signora che mi seguiva mi ha chiesto se volevo cucinare a casa sua per una cena tra amici, al che ho accettato, e da lì è nata l'idea del cuoco a domicilio. Dopodiché, con la pandemia e con l'impossibilità a poter girare per le case, ho pensato bene di cambiare impostazione e dedicarmi principalmente al contenuto, che era quello che volevo fare sin dall'inizio, e ho iniziato a fare dei video. Poi ho aperto il canale YouTube, ho cominciato con qualche ricetta, un giro, un tour a Genova, e poi durante la scorsa estate ho deciso di fare questo video su Caltanissetta, perché era da un po' di tempo che volevo realizzarlo. Mangiare abbiamo mangiato, girare abbiamo girato, ci siamo fatti raccontare un po' di cose da chi prepara il cibo, e che ci fa bere pure, direi che un giretto a Caltanissetta ve lo potreste fare.